Questo video riguarda i migliori tre pantaloni a compressione running. Il vincitore della qualità è l'Under Armor UHG. Leggeri, comodi e aderenti come una seconda pelle, i pantaloni fitness da uomo convincono per il materiale leggero e la lavorazione pregiata. Grazie alla vestibilità a compressione, i Legings Uomo Running vestono come una seconda pelle. Il tessuto elasticizzato in quattro direzioni consente di muoversi liberamente. Grazie al design ergonomico rivisitato, con cuciture posizionate al di fuori delle zone maggiormente sollecitate dai movimenti, i Legings Uomo Palestra risultano inoltre robusti. Il materiale Ikea rallontana il sudore dal corpo e asciuga velocemente. Ulteriore traspirabilità è assicurata da inserti a rete su cavallo e cucitura interna. Nonostante il modello a compressione, l'ampia fascia elastica in vita assicura l'ottimo della comodità e un'ottima vestibilità dei Legings, adatti per allenarsi sia all'aria aperta che in palestra. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Under Armor HG 2.0. I Legings Uomo Palestra sono in tessuto morbido e robusto, consentono di muoversi liberamente e asciugano velocemente. Questo intimo tecnico è realizzato in tessuto morbido ed è molto comodo grazie alla patta funzionale. Grazie alla stoffa elasticizzata in quattro direzioni, i Legings compressione offrono libertà di movimento in ogni direzione. I Legings Uomo Running allontanano il sudore, asciugano in fretta e, grazie agli inserti in mesh, hanno un'aerazione ottimale. Under Armor Legings Maschili White Gear Armor 2.0 Vestibilità, compressione, materiale, 87% poliestere e 13% elastan. Il vincitore del premio è l'Under Armor Cold Gear. La odiamo tutti. Quella sensazione che ci fa distrarre e irrigidire quando siamo fuori al freddo. Ecco perché abbiamo creato uno strato di base che ti mantiene caldo e asciutto, aderisce senza salire e non aggiunge peso, per restare concentrato tutta la stagione. Il tessuto a doppio strato è caratterizzato da un interno spazzolato estremamente caldo e un esterno liscio ad asciugatura rapida. Gli inserti nell'interno gamba e il tassello in mesh elasticizzato forniscono una ventilazione strategica. Il materiale elasticizzato in quattro direzioni migliora la mobilità. Il materiale elimina il sudore e si asciuga molto velocemente. Il design ergonomico allontana le cuciture dalle aree più soggette a irritazioni. Il design migliorato del tassello offre un comfort e un sostegno eccellenti. Compression ultra aderente, come una seconda pelle. Interno gamba 71 cm. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.